Allora, si è concluso quello che è stato il primo rendezvous progressista voluto dall'UVP nel fine settimana del 20 e 21 di settembre, un bilancio a dir poco positivo. Siamo molto contenti di come si sono svolte queste due giornate. Il rendezvous progressista è stato pensato e organizzato proprio con l'opportunità di avere due momenti di socializzazione e di formazione politica. Che cosa si intende? Una giornata è stata dedicata alla presentazione del nuovo progetto editoriale, composto da un refresh di quello che è il sito dell'UVP, nonché dalla parte di social network, di Twitter e Facebook, ma anche di quella che è la prima uscita del nostro giornalino cartaceo, Le Progressiste. Quindi un'occasione per lanciare un nuovo strumento di comunicazione con tutta la cittadinanza, con tutta la comunità valdostana. Ci sono infatti tra gli obiettivi del nostro movimento quello di rendere doti tutti i cittadini di quanto si svolge all'interno dell'amministrazione regionale, ma soprattutto di quelli che sono gli ideali, i valori, i principi e le scelte che stanno alla base dell'Unione Valdotene Progressiste. La giornata del sabato invece è stata pensata, divisa in due momenti, un momento dedicato alle famiglie, con una parte dedicata ai più piccoli, giochi e intrattenimenti per i bambini, ma anche per gli adulti, proprio per dare l'opportunità, l'occasione di socializzare, di passare del tempo tra di noi, sulla scia di quell'esprit de famille che abbiamo già sentito nel corso delle campagne elettorali e che si è dimostrato molto importante per il nostro movimento. Una seconda parte, quella più prettamente politica, con due tavole dibattito. In la prima parte, abbiamo avuto un dibattito a l'UVP, c'è a dire la construction di nostro movimento entre racine storica e una proiezione verso l'avenir, verso il futuro. Quindi voilà che nella prima parte politica, abbiamo parlato molto di ciò che sono le ideo che sono a la base della formazione di nostro movimento, ce che sono le decisioni che l'on va prendere in questi mesi per la costruzione e l'organizzazione territoriale e ancora, on può dire, le decisioni che sono, in effetti, le decisioni del movimento per lo che riguarda la parte concernente la politica valdottina. Un dibattito con gli aderenti, con i sostenitori, con i firmatari del manifesto e con gli iscritti del movimento. Sottolineo queste opportunità proprio perché l'Unione valdottana progressista non ha legato questi suoi mesi all'iscrizione attraverso una tessera, ma piuttosto all'adesione di un manifesto di ideali e di intenti con il quale abbiamo iniziato il nostro percorso politico. La prima parte è stata estremamente importante perché ha dato l'occasione di ritrovare la nostra base ma anche di parlare, chiacchierare tranquillamente su quelli che sono le scelte che riguardano la costruzione del movimento e su quelli che possiamo dire un po' i paletti che il movimento ha deciso di avere. Dico paletti perché l'Ivp non è disposto a scendere ad inciucci e quindi si è presentata alle scorse elezioni politiche con un progetto politico ben preciso per quanto ci riguarda, lo abbiamo detto più volte, non avevamo paura di andare a governare e di andare a vincere non abbiamo paura di governare nemmeno ora, ma lo vogliamo fare con un progetto ben chiaro e definito e non appunto con dei compromessi, con un modo di fare politica dal quale ci siamo allontanati perché crediamo che non sia più adatto alla società del 2013 e che faccia parte di un sistema che deve finire. La deuxième partie du debat politico ha été estremamente interessante per ce qui nous concerne perché in effetti ha été un table ronde avec les autres forces politiques présentes au Conseil Regional c'è a dire UVP évidemment e poi Alpe e Parti Démocrat Sinistra Vidéa ensuite ancora l'Unione Val d'Ottan e Stella Alpina e Movimento Cinque Stelle e quindi voilà che a cette table ronde hanno participato tutte le forces politiche val d'Ottan dans l'obiettivo di avere un dialogo con gli altri, con tutti gli attori e i protagonisti della politica di nostro territorio in l'obiettivo di vedere se c'è la possibilità di rilasciare nuovo un progetto politico in commun nel quale il cittadino e la comunità finalmente trovano la primaria place. E' un dibattito importante perché crediamo fortemente che dal dialogo tra posizioni per quanto differenti siano debbano nascere proposte e anche progetti comuni da portare avanti insieme all'amministrazione regionale e all'organizzazione politica. Ecco allora che è stata un'occasione di vedere le forze del cambiamento, le forze di opposizione che come si vede in Consiglio regionale stanno lavorando estremamente bene insieme in maniera molto compatta e molto serena di però trovarsi intorno a un tavolo anche insieme a quelle forze della maggioranza di adesso, quindi Union e Stella Alpina.